POKEMON DI AMANTE LUCENTE Una volta usciti dalla palestra però siamo andati a incontrare il professor Rowan alla biblioteca e una specie di esplosione ha coinvolto il lago Valore Quindi oggi andiamo a vedere cosa succede al lago Valore Ok Non sembra propriamente un lago anzi possiamo vedere tracce di magma terra bruciata cos'è quella? Recluta Ah 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 prossima fermata allago verità Il barlume di civiltà più vicino è quella sottospecie delle città chiamate a due foglie Potremmo proseguire incontrastati Ma che cosa? Oh mio dio Magicarpo Magicarpo si sbazza? Saltella pigramente Sì è quello che sa fare meglio saltellare pigramente no? Ok ma Non so cerco oggetti nascosti anche in mezzo alle macerie Un sciacallo Ti farò sguazzare nella melma come un magic orb Nella melma Ragazzi qualcosa di brutto è successo qui Dobbiamo scoprire cosa ma questi qui ci intralciano la strada Ora che ci penso Tra le altre cose ho detto che avrei rinominato Drifblim E gli ho dato un nome particolare LZ129 LZ129 è meglio conosciuto come Hindenburg Ovvero il dirigibile che ha subito quella disastrosa esplosione Uccidendo decine di persone Ma non potevo chiamarlo Mongolfier Come i fratelli Mongolfier che hanno appunto inventato le Mongolfiere Sarebbe stato un po' banale Appropriato ma banale Quindi che bello ricordare un Pokémon per una tragedia Un altro Magicarpo Ma aspetta dove è però l'epicentro di tutto Ah ok Mi sa che è di qua Eh si perché di qua mi sa che sembra che sia bloccato dai Magicarpi Chissà cosa c'è di là Se si potesse andare Magari con un walkthrough walls glitch Si potrebbe E poi comunque sia la strada sarebbe sempre bloccata alla fine Neanche Team Galassia sa che farsene di Magicarpo Pokémon inutile Sì sì Aspetta che ti senta mamma Ghiarados Dopo vedi come ti fa correre Abbiamo fatto esplodere la bomba galattica Che scoppio che è stato Eh vedo È evaporato all'acqua Anche se non capisco perché delle buche sparse in questa maniera Vorrebbero esserci buche Uniformi Cioè dovrebbe essere O nel punto più forte dell'esplosione Però non ha senso così Per il momento Drifblim non è adatto a combattere Deve arrivare al livello 40 più o meno E poi sì forse contro la palestra ghiaccio Ghiaccio no ghiaccio Lui è volante Non lo so ragazzi quando farlo combattere Perché prende danno sia dalla settima che dall'ottava palestra Dati i tipi Quindi boh Qualche allenatore in giro lo troverò sicuramente Per quando sarà il momento di farlo combattere Come così alla lega ci arrivo con tutti sopra al 50 Userò il cerca sfide Male che va Perché non può essere a combattere con Un pokemon che non è neanche al 40 Ti pugnirò per conto del nostro capo Nessuno può permettersi di ispirare il team in galassia Contento tu Che lavori per un'organizzazione malefica E ho comprato anche Il vestito invernale per il personaggio Perché beh ho detto che l'avrei fatto Ora sembra una persona normale E non uno scappato di casa Farò una mossa che non servirà molto qui E' un po' azzardata mettere il nubuo davanti Una mossa molto azzardata Ma vediamo un po' se c'è qualcuno contro cui ce la può fare Magari Che c'è? Sei anche tu fra quei babbei che abbiamo convinto a stare di guardia all'entrata? Beh non importa chi sei Soprattutto a questo punto Le cose si stanno facendo davvero divertenti Tutti i pokemon leggendari Verranno portati al nostro copo a rupepoli Ok Lo dici tu Che c'è? Salve Che è successo qui? Oh che visuale Terza persona Una visuale un po' Non lo so Troppo piatta Poca profondità sembra che abbia Molto strana La missione procede senza intoppi Il capo dovrebbe essere soddisfatto Lo facciamo per il bene di tutti Ma soprattutto per il bene del team Galassia Conosco quegli occhi Non sei tu il ragazzino che si è introdotto nel covo del team Galassia e Vapoli? Pff Non ce ne dovrebbe vergognarsi di essere stata abbattuta da un poppante come te Ma chiunque si opponga al team Galassia deve essere annientato Non verrà tollerata la bench E minimo ostilità E mentre lui parla lui si gira Ma a me che me ne frega Quanto è bello Saturno qui Ehi E figata Bellissimo qui I vecchi giochi non gli rendono giustizia Guarda poi con quel sorriso Cattivo proprio Va bene Tra l'altro i suoi capelli dovrebbero rappresentare Gli anelli di Saturno Ma in realtà lo rendono solo più malvagio Sembrano delle corna Ah Ho capito perché ora Certo Saturno in giapponese si legge Satan Capito? Ora capisco Allora Parasso seme Lo parassiamo Ok Perfetto Ok Dai Però intanto parassi seme ci sta E ci prendiamo un piccolino pizzico di vita A questo punto cambio perché È impossibile stare con Nugo davanti Cominiamo qualunque Pokémon a questo punto Intanto Intanto Drift Blim Tanto Bronzor è lento LZ129 Come lo chiamano in inglese È molto più bello in inglese Non fa nulla È inutile E parasso Yeah Mi riprendo tutta quanta la vita che mi hai tolto Maledetto Bronzor E ora? No Per due punti Che schifo Palla Iombra E palla Iombra dovrebbe mandarlo K.O Non perché ha poca salute Ma perché è super efficace Yeah Hai un altro Pokémon? Sì Cosa è turno da mandare? Così facciamo un po' Faccio un po' di punti extra Andiamo un po' Toxicroak Veleno Oddio Veleno Contro spettro Ah Toxicroak Io ho letto Krogank Cioè Io ho letto Toxicroak Ma pensavo Krogank Per qualche strana ragione Questo fa male Questo fa davvero male Se fa lo sbigo Tanto non mi becca Perché è sottoterra Eh? Cosa? Ah Non fallisce mai Sei usata da un Pokémon veleno Cavolo Non lo sapevo Non lo sapevo proprio Non lo sapevo Dalla sesta generazione E chi ha giocato mai Con il Pokémon veleno In sesta? Cavolo Questa è una cosa Molto interessante A dire vero Se ci pensate È buona come Cosa Se è usata però Da un Pokémon veleno Toxicroak È un Pokémon veleno Ovviamente Vabbè Comunque Ehi Ci sai fare Ora ho capito Perché ti oppuglio Al Team Galassia Perché? Non lo so Io mi oppongo Perché il gioco Mi dice di oppormi Mi sono lasciato sconfiggere Anch'io Sono riuscito solo A guadagnare tempo Ma non importa Un bambino Commette di riuscire a me Da restare il corso del tempo Il Team Galassia Catturerà i tre Pokémon Leggendari dei laghi Con il loro potere Creeremo un universo Completamente nuovo Ormai Martius Dovrebbe avere Già catturato i Pokémon Del lago verità Quindi Devo andare al lago verità? Portassi i Pokémon A spasso È un po' una cagata Perché sinceramente Non I Pokémon Non riusciranno mai A starti dietro Non capisco perché Basterebbe scrivere Un valore diverso Sulla velocità Comunque Specialmente Questi che sono Programmati in Unity Ah Link Che tempismo Questi patch del Team Galassia Vogliono catturare Il Pokémon leggendario Deve aiutare Lo Sinda Ma tu vuoi combattere? Cosa vuoi vecchiaccio? Eh Vuole fare Dell'amore Paxo Vediamo un po' Primo vai Ah due sono Non mi ero accorto Lui faceva trappola Niente di personale Nothing personal kids Ma adesso ci penseremo Noi a bloccarti qui Per riportare la pace Nel mondo Per unire tutte le nazioni Sotto il nostro dominio Dobbiamo prima controllarlo Ok Glemiao E Silcun Bah Ma è un'altra otta in doppio Quindi anche Inugua Ci mettiamo oggi a combattere Ma andrai in orbita La tua squadra di Pokémon Se questa missione Andrà in posto Ci daranno un bel aumento Quindi qui nel gioco Loro sono persone Che hanno dei sentimenti E delle idee precise Nonostante seguano certamente Il loro capo Quindi ora Lusinda Link Il Team Galassia Allora che c'è Se ti tocchi per salvare qualcuno Non avete nessuna possibilità Nemmeno la più infima Vi batteremo Ma hai preso il Pokémon del lago Vattene Se ti sconfigo Me lo riprendo No? Scusa Se te lo dico Però Che cavolo Poteva la figura degli scemi Bah Sciottato Ah ma andassegno un brutto colpo Eh mi sa che qua Ha servito un brutto colpo Sì Quante cionchi Paragli Nugua Purtroppo non ha molte chance Contro i Pokémon Volanti Fia volanti Lui ha levitazione Non è che vola Quindi potrebbe anche prendere Danno da terremoto Se avesse un'altra abilità Certo E acqua di sale Me lo manda giù Bene Tordiraggio Quanto è bello Fare danni così A buffo di cavolo Bravi Bravi tutti Così anche io so capace Di nuovo Eh sì di nuovo Che tesoro Di nuovo Ho perso di nuovo Prima l'impianto Ora è lago verità È tutto per colpa tua Una cosa del genere Non può succedere A una comandante Del team in galassia Calma ti Martes In fin dei conti Io a mia parte l'ho fatta La mia missione Era quella di portare I Pokémon del lago Al nostro copo E l'ho fatto Senza alcun problema Quindi Missione compiuta Compagni Andiamo Il capo ci sta aspettando Al copo I Pokémon De tre laghi In qualche modo Sono tutti collegati Grazie alla tenacia di Saturno Al lago valore È apparso una grotta Era la grotta dove dormiva Il Pokémon Mesprit Probabilmente Mesprit è comparso Anche per aiutare I suoi amici Ma che dire Ci è andato proprio bene È stato facilissimo Catturarlo Ricapitolando Mesprit La divinità Delle emozioni Azef La divinità Della volontà Uxie La divinità Della conoscenza Ora che li abbiamo presi tutti Potrei vedere Quali sono i piani Che il team galassia Grazie per le informazioni Che non ti ho chiesto Capisco Lo stesso è successo Anche al lago valore Un altro Pokémon Leggendario È stato portato via Dal team galassia Avete entrambi affrontato Le veri e propri criminali Il fatto che Ne siete usciti In lesi È di persona Buona ragione Per festeggiare A proposito È il lago argutia Barry Non sarà in pericolo Dovrei anche andare Alle fonderie Fuego Veramente Sapete cosa Faccio una cosa Allora Per concludere Vado alle fonderie Fuego Sapete che non ci sono mai Stato in nessun gioco Pokémon Cioè voglio dire Nei giochi Pokémon Nei quali ci si poteva andare Sia Platino Che Diamante e Perla Lo so È una dimenticanza Molto grave Ma l'ho scoperto Per puro caso Dovrebbero essere Da ste parti qua No Ok Sono in un posto Particolare Cioè Chi ci viene qui? Aspetta Ma qui cosa? Ma qui dietro c'è Un posto Incredibile Wow Ehi Quanta robina Miracle Seme Ma questi fiori Risplendono Di vita propria Bellissimi Non c'è altro qui? No A quanto pare no Però c'è un'altra sfera Che ho visto prima Eccola qua Pietrafoglia Ah nel caso Non l'abbiamo trovata Già nei sotterranei Scavando Settordici mila volte Ah ma qui si scende No 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 Andiamo alle fonderie Fuego Che C'è sicuramente qualcosa Da trovare Ok Ah ma è un posto In disuso A quanto pare Perché c'è l'erba qui E anche delle bacche Yeah Le fonderie Fuego Le scoprì per puro caso Guardando qualche video Su youtube Ma poi non ci sono mai andato Nel lontanissimo 2008 Non ci sono mai andato Perché Boh Non lo so Ma qui? Ah La strada che si ricongiunge Col percorso di qua Ok Non mi interessa Per il momento Voglio solo concludere L'episodio Esplorando queste fonderie Così almeno Metto qualcosina Per il completismo Ah ma c'è gente qui Ok Quindi quello Mi porta sopra Ok Facciamo un po' così Guarda Andiamo qui Ah qui proprio Niente Inutile Direi questo qui Mi ispira di più Ah ok Lavorano Una fonderia rovente Ah Lavorano Ma perché allora Questi macchinari strani Tutto spento Da fuori Nessun contatto Con la civiltà Boh Li portano volando I materiali Come fanno Ok Vabbè Non è affermi Sapere come Trasportare i materiali Ma Sarebbe stato carino Saperlo Vado qui Mi ispira Qui Sì Antiscottatura Buono Non mi serve Non mi serve Ma buono Proprio a caso Oramai ci vado Lo so talmente bene Che Anche premo a caso Trovo qualcosa Vabbè Pokémon ragazzi Dai Fatto così Voi non avete idea Di quanto fossero lenti I pannelli Nei primi giochi Pokémon Senza motivo Non ci capita Spesso di avere aspetti Come te Alle fonderie Cioè Dobbiamo questa occasione Con una lotta Ci sono barilli Pieni di Acciaio Petrolio Combustibile Fossile Per Per Rifuoco Non lo so Potrebbe esplodere tutto Da un momento all'altro Combattiamo Yeah Al fuoco Eh L'ho detto io L'ho detto io Che prendeva fuoco tutto qui L'ho detto o no Faccia bacata Non lo faccio rapporto al capo Eh Anche se non lavoro qui Faccio rapporto Allora Questa è una strada Molto importante Che oramai conosco bene Perché È chiaro Che sia così Allora Prendiamo qui Prendiamo l'oggetto Che è Petra Focaia Guarda Lo stavo per dire Lo stavo per dire Oramai Ce lo so Pokémon È così È prevedibile Purtroppo Allora Aspetta Questo No Perché ho sbagliato Qui nulla No Come cavolo Ho fatto sbagliare Quello mi portava sopra Guardate Mi portava sopra Quello Se lo prendevo Aspetta Facciamo un'altra prova Ah ma sono tre Ah ok No Quello mi porto sempre sopra Se prendo questo Ok Questo sì Ok Non l'ho affrontato questo Ne avevo visti solo due È un'area irritata Forse i pannelli ti hanno portato In un posto In cui non volevi finire Veramente Sì L'ho deciso di venire qui Motevo anche evitarti E affrontarti dopo Corrad Lavoratore Sto andando in fumo Ah già Ora prendiamo lo strumento Roccio a Roma Ok Ok Per fortuna Ho per premio un altro pulsante Dico mi mi sbaglio Oh salve Oh ciao Non ci sono spesso visitatori Qui Ho cercato di rendere più comodi Gli spostamenti della fonderia Stallando delle mattonelle mobili Ma non piacciono a nessuno Dicono che pavimento mobile Del mal di mare Ma tu Non hai certo tempo per i miei discorsi Eccoti un ricordino Ma ce n'è una Vabbè La mia fonderia Non avrebbe ragione Di esistere senza il ferro Per questo ringrazio sempre La natura che me lo fornisce Lancia fiamme Oh Se usassi un pokemon Che usa attacchi speciali Guarda Lo farei subito Ma non ce li ho Quindi per oggi Non la userò Allora L'ultima tappa di oggi Proprio veloce veloce La facciamo eh E' una cosa che volevo fare Fin da prima Andare qua Andiamo a sabbia fine Volevo usare il surf Qui a sabbia fine Ormai da un po' Perché c'è un pezzo di mare Da controllare Sono quasi sicuro Che la strada Che ci interessa E' di qua Per qualche ragione Non lo so Mi gira così E' di infatti Oddio anche se l'altra Portava qui Un flacone di proteine Ok Riutilizziamo surf Dove correva Ok Ah ma c'è proprio Un percorso diverso Qui Accidenti Bello Con un sacco di allenatori Vediamo un po' Dove ci porta Sta strada Albero di miele Bacche E altri allenatori Facciamo le cose in ordine Una casa Dove non si può andare Puro aroma Qui perché tanto Oramai Prima di entrare Nella casa Qui non c'è nulla Sì Andre Link Credici anche tu Andiamo ad entrare Dentro sta casa A vedere che roba c'è Oh io Vedo vedo Il numero di oggi È 88 Mostrami un pokemon Di livello 88 Se ce l'hai ci darò Un premio No Cintura nera Abio cintura Focal nastro E basta Questa era interessante Focal nastro Sì Se giocavi competitivo Era molto importante Io ce l'avevo Focal nastro Perché Perché sì Ce l'avevo Per via traverse Però ce l'avevo E di qua cosa abbiamo Allenatori Allenatori Stai andando anche tu A parco rosa rugosa Ma non è giusto I cerca pokemon Come me Dovrebbero poterlo Visitare Prima di tutti gli altri Ah La guargusia Vi ricordo ovviamente In descrizione Che trovate i link Per instagram E telegram Dove pubblico Tutti quanti gli aggiornamenti E se ancora Non siete iscritti Al canale Fatelo E mi fate molto felice E ovviamente Ci vediamo al prossimo video Bye bye Ciao a tutti Grazie a tutti.